Non è solo il 25 novembre, è questo il titolo che l'assessorato comunale alle pari opportunità ha voluto dare ad un cartellone di iniziative messe in campo per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il tutto in un'ottica, quella che non è solo una giornata simbolica per ribadire un concetto, ma la lotta deve essere quotidiana. Non è casuale infatti che non ci siano spettacoli, anche se qualcosa si farà proprio il 25 novembre. L'assessore Ersilia Lancia ha presentato il programma che parte domani con uno spettacolo musicale a ridotto del teatro alle 18 con Grazia De Michele e Fabiano Lelli, Sante, Bambole e Puttane. Il 26 novembre invece ci sarà presso la palestra attiva, un corso di autodifesa femminile a cura della Jiu Jitsu Academy. Intanto ha una serie di iniziative che questo assessorato alle pari opportunità ha ritenuto di pensare per il mese di novembre, che si attesta finalmente come il mese che tradizionalmente è dedicato alla riflessione di questo tema importantissimo che è la violenza contro le donne. Si chiama non è solo il 25 novembre, non solo e non tanto, perché proprio per quel giorno non abbiamo previsto nulla. Ci sarà un consiglio comunale e c'è un susseguirsi in città di convegni sul tema, al quale tra l'altro parteciperemo, quindi più per una questione come dire pratica, ma è emblematico nel significato perché si tratta di un tema che ci riguarda fortemente non solo il 25 novembre. Abbiamo pensato ad una proposta che fosse culturale perché ci siamo in questo caso voluti orientare sulla sensibilizzazione delle coscienze, se vogliamo anche delle competenze emotive, perché la violenza di genere, che è un grande tema che impegna tutte le amministrazioni su più fronti di prevenzione, di repressione, di legislazione ad hoc, resta prima di tutto, nonostante tutto, disperatamente, lo dobbiamo capire, una questione culturale. Il 27 novembre invece, San Paridotto del Teatro Comunale alle 17.30, scena lo spettacolo teatrale Natura Morte non Fosso con Giancarlo Mancini. È uno spettacolo giusto perché tratta purtroppo dei temi attualissimi, è l'unico spettacolo che parla in maniera crudissima di femminicidio, ma non solo, perché il femminicidio ricordiamo che è soltanto la punta di un iceberg sotto il quale c'è manipolazione, gaslighting, ci sono delle fratture familiari, c'è un mondo sommerso che in questo spettacolo viene portato alla luce e viene portato alla luce con un'idea vincente, della quale sono l'atore. È scritto in maniera tale che possa arrivare a chiunque, perché non usiamo, io sono un attore prettamente televisivo, faccio anche teatro, però noi usiamo in televisione una cosa che si chiama flat character, tutti i nostri personaggi sono uguali, parlano tutti allo stesso modo, questo crea una distanza enorme fra gli spettatori e il prodotto. In questo spettacolo i pusher parlano come i pusher, le prostitute come le prostitute, gli assassini come gli assassini e gli adolescenti come gli adolescenti, quindi usiamo un linguaggio crudo, vero, reale e quindi è uno spettacolo che attraverso lo stomaco sale al cuore e dal cuore arriva alla testa. Questa è l'idea vincente. Infine, un sabato letterario il 28 novembre alle 10 con le scuole superiori della città, ridotto del teatro, un vero e proprio salotto che vedrà confrontarsi diverse autrici. Tutti gli eventi saranno gratuiti fino ad esaurimento posti.